per avere, anziché aprire l'ombrello, chiamare la protezione civile. Se non si cambia registro, anche culturalmente, non si potranno che piangere nuove vittime e accusando sempre le bombe d'acqua. In realtà, come diceva lei, Ministro, non sono solo le bombe d'acqua, ma siamo noi che continuiamo a bombardare questo nostro territorio con le nostre scelte insensate e i nostri comportamenti sempre più miopi, sia dal livello nazionale che dal livello locale. Ed è per questo che tutti assieme dobbiamo fare la nostra parte. Però non bisogna più aspettare, perché tra qualche tempo ci ritroveremo ancora a fare un question time alla Camera per piangere nuove vittime. Questo non è più accettabile. La ringrazio. Passiamo all'interrogazione 3984 dei deputati Pellegrini ed altri concernente interventi urgenti per un programma organico volto al contrasto del disesto idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio, anche in considerazione degli eventi calamitosi che hanno colpito alcune aree del Veneto. L'On. Pellegrini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Grazie, Presidente. È la terza interrogazione. Refrontolo. Un nuovo disastro annunciato, altre vittime. L'ennesima calamità, figlia della mancata cura del territorio e della dissenata gestione del suolo che caratterizza il nostro Paese, Signor Ministro. Nel question time noi riportiamo la risposta che ha dato, giusto 20 giorni fa, un altro membro di questo Governo, ad una nostra interrogazione relativa alle iniziative per contrastare il disesto idrogeologico. È la confessione manifesta dell'ineguatezza ad avviare un serio programma di messa in sicurezza del territorio, assieme al riconoscimento dell'incapacità di spendere le risorse per la difesa del suolo, risorse del tutto inadeguate e continuamente taglieggiate in questi anni. Signor Ministro, quali sono le misure immediate per mettere in sicurezza le colline, per la manutenzione dei torrenti, per un'adeguata compatibilità idrogeologica, per evitare disboscamenti, sbancamenti e cementificazione selvaggia del territorio, ma per attivare un monitoraggio continuo sulle emergenze ambientali e sulle aree critiche del Veneto, il cui paesaggio è stato devastato in questi anni da uno sviluppo economico e urbanistico indiscriminato. Come ormai noto, il territorio italiano, l'ho ricordato anche prima, è morfogicamente fragile. Siamo il Paese a più alto rischio in Europa, con il 5,7% di territorio nazionale considerato a livelli di rischio elevato e molto elevato. Appare quindi sempre più urgente e necessario garantire le manutenzioni dovute ad un corretto uso del suolo attraverso la stretta cooperazione fra Stato, Regioni e enti territoriali, in funzione di una maggiore organicità della pianificazione territoriale. Ciò va fatto anche mediante iniziative di adeguamento e raccordo normativo, puntando sulla trasformazione e riqualificazione del tessuto urbano esistente e non sulla realizzazione di nuove edificazioni, anche coniugando strumenti normativi che uniscano vincoli ed incentivi. C'è un provvedimento ora.